Ecco, Padre Rinaldo, anche noi tanti confratelli che hanno condiviso con noi, magari li immaginiamo, anche le persone a noi care, le persone che il Signore ci dona proprio nel nostro cammino, che oggi non ci sono più. Ecco, contemplando il presepe, ti viene di pensare a queste persone e se, ecco, la mia domanda non è irriverente, vorrei chiederti magari a chi hai pensato quest'anno, chi pensi magari anche tra quei pastori, tra i volti di quei pastori che magari idealmente possono prendere il volto delle persone a te care? Sì, penso che sia naturale che facendo il presepe uno si ricorda anche di altri presepe che ha fatto nella sua vita e collegandole necessariamente, naturalmente, alle persone che allora vivevano, in quegli anni erano proprio più vicine a noi. Tu all'inizio parlavi della nostra fraternità, ecco, io negli anni Ottanta sono stato qui, facevamo dei presepi anche viventi e c'erano, ecco, i miei confratelli di allora, per esempio, Padre Marciano è stato per un po' di anni superiore, no? E quindi hanno sempre incoraggiato questa realizzazione di queste realtà, no? Padre, penso, Padre Gian Maria Cocomazzi, che io qualche volta tu parlavi di irriverenza, no? Dei pastori o di questi personaggi di oggi, io ho avuto anche la, diciamo così, ecco, il pensiero e abbiamo realizzato anche in chiesa, mettendoci anche degli agnellini in chiesa, allora era Padre Gian Maria Guardiano, tutto contento, lui partecipava in un modo veramente, perché davanti al presepe si ritorna a bambini. Ecco, c'è quella semplicità. E quindi io sempre ricordo anche questi confratelli, tanti altri, anche Frallino, per esempio, che era più semplice, no? Più così, e poi tanti altri. Un altro particolare che sempre mi viene quando faccio i presepi, Padre Giuseppe Pio, Bill, che ha aiutato Padre Pio, ecco, durante l'ultima messa, no? E lui è quel frate robusto che sorregge Padre Pio. Robusto, esatto. E beh, io sempre lo ricordo perché quando noi, anche negli anni Ottanta, no? Viviamo insieme, io mettevo, in genere allora facevamo la notte, il presepe. Di notte, si lavoravano. Ecco, lui prendeva una sedia, si sedeva lì, si metteva con le gambe così all'americana. E contemplava. E stava lì zitto, non diceva ah, ma io poi ogni tanto lo sbirciavo e lui era così contento, così proprio si vedeva che gioiva, no? Quando mettevo una cosa, l'altra, perché partecipava. Quindi è naturale che tu ti ricordi anche di questi frati che veramente, poi, insomma, hanno fatto anche la storia di San Giovanni Rotondo. Sono stati veramente tanto vicini a Padre Pio. Padre Pio pure sappiamo che si incantava davanti al presepe che si faceva lì nella chiesa antica. Lui invogliava a fare il presepe. Lui invogliava tantissimo e anche allora era sempre lavoro dei frati, anche qui ricordo che stavo a Piedrelcina, no? Quando c'era un certo padre Emanuele, in genere i frati prima facevano lo sfondo del presepe, no? Con il cielo stellato, la luna, e Betlemme, oppure anche lontano, lontano, Gerusalemme, dicevano loro, no? Tutte queste cose così. E venivano dipinti dai frati. Un certo padre Vittore, non so se hai sentito parlare di questo padre Vittore che poi c'aveva la sorella lì da Maria Pai, il padre, e lui era musicista e anche Vittore. Il padre Vittore da Canosa, se non sbaglio, è quello che ha composto anche l'inno di San Francesco, molto bello. Nel mio paese ancora si canta. Lui teneva tantissimo al suono e anche faceva questi sfondi dei presepi che erano veramente meravigliosi, perché poi insomma si usava molto un po' la carta così così per i paesaggi. Però lo sfondo era quello e ti invogliava, ti faceva chiudere gli occhi e sognare. Quando eri piccolo, ecco, ricordi il tuo primo presepe? Ricordi la prima volta che hai fatto il presepe? Da piccolo, cioè, ecco, noi, i miei avevano anche la campagna, no? Quindi lì avevo possibilità perché c'era un po' più di spazio e anche perché sempre, ecco, questo mi è venuto sempre il desiderio di prendere le cose dalla natura, no? Quindi, ecco, ricordo pure un muschio particolare che si trovava sulle pietre e le andavo a raccogliere così, con tanta pazienza di mamma, no? Che mi permetteva di impicciare, di fare, di dire. E questo penso che anche i genitori incoraggino i figli. Padre Rinaldo, stiamo proprio alle battute finali. Sì. Pochi minuti, davvero vola velocissimo il tempo. In questo spazio noi ci rivolgiamo sempre ai giovani, no? E parliamo quasi spesso proprio della parola vocazione, di vocazione. Una domanda così può sembrare banale, no? Anche ingenua, però forse se approfondita può diventare davvero significativa. Il presepe ha a che fare con la vocazione? Cioè, in che modo il presepe può risvegliare nel cuore anche di un giovane il desiderio anche di donare la propria vita al Signore? Secondo te? Perché il Papa nella lettera parla proprio del presepe come uno strumento di evangelizzazione, no? Certo. Ecco. Che rapporto ci può essere tra il presepe, la natività e la vocazione? Ecco, io credo che, penso, prima di rispondere direttamente, mi permette di ringraziare anche quelli che hanno collaborato a realizzare questo presepe, no? Anche quel Signore che ci ha donato questo tronco perché ce l'ha donato così generosamente e tutti quelli che poi hanno lavorato, soprattutto Bruno, Gino, Franco, Fra Carmine, che pure si metteva lì a fare... Ricordiamo tutti. Ecco, è Saverio che ha ripreso un po' le cose e volevo dire che il presepe, in genere ce lo auguriamo sempre, che non si fa mai da soli, no? E' sempre coinvolgente di altri, cioè si possono coinvolgere, anche se l'artista, tu sei un grande artista per un altro stile di presepe, no? Ecco, l'artista ha già tutte le mende e qualche volta... Fa un po' il direttore. Ecco, qualche volta dici, ma perché questo è così, no? Però, ecco, questo fatto di realizzare le cose insieme, insieme, no? Io penso che apra il cuore, anche ad accogliere la parola di Dio e anche a domandarsi, ma la mia vita la posso donare un po' di più agli altri, così? Questo è quell'altro, no? E poi io credo che, al di là dei personaggi che stanno nel presepe, noi dovremmo diventare, ecco, pastori che vanno, si meravigliano delle cose belle che vedono e che poi testimoniano. E penso che la vocazione sia proprio questa, no? Di accogliere il Signore e poi di portarla in un modo o in un altro, chi in un modo più semplice, così, insomma, senza grandi discorsi e chi poi, insomma, è chiamato anche ad aiutare, a guidare, no? Come c'è la tua responsabilità, no? Di animatore vocazionale e però credo che sia il presepe come quel momento della Pasqua, per esempio, di preparare, no? Anche il Giovedì Santo, tutte queste cose, siano tanti momenti forti in cui mi auguro che i giovani si interrogano per la loro vita. Che poi ci ricordiamo, ci ricordiamo che la vocazione, ecco, non è soltanto quella di una consagrazione, diciamo, al Signore, ma anche una vita bella, matrimoniale, no? E poi, soprattutto, secondo me sono convinto che prima di essere frate, di essere sacerdote, bisogna essere uomini, bisogna essere con il cuore grande, con il cuore aperto e far prevalere Giuseppe anziché Erode. Erode, bellissimo. Tra l'altro pensavo anche questo, no? Mentre anche la mia vocazione è nata anche in un contesto di presepe, quando, ecco, nel 94 avevamo deciso, insieme ai giovani francescani, proprio di rappresentare in maniera vivente, no? La nascita di Gesù nel cuore della nostra città, nel centro storico. E realizzando quel presepe io senti proprio dentro di me il cuore, il desiderio di dire perché questa cosa non deve essere solo un gioco, una rappresentazione, può essere anche una vita, no? Ecco, c'è, come hai detto tu, proprio una pedagogia, proprio nel realizzare il presepe. Allora possiamo davvero oggi concludere davvero con questa bellissima immagine che ci hai regalato. Grazie, padre Rinaldo. Grazie a voi. Noi ti invitiamo altre volte a venire qui perché davvero quando sei in studio ci sentiamo, ecco, io non mi sono sentito in diretta, ma mi sono sentito proprio nel salotto del convento a dialogare con te. E abbiamo condiviso questo nostro momento con i nostri fratelli. E invito, ecco, i giovani che magari possono essere in ascolto in questo momento di questa nostra chiacchierata, di questo nostro dialogo, ecco, a non avere paura, a vedere, come ci ha detto il Papa oggi in Giuseppe, non un uomo che fugge, ma un uomo che ha coraggio. Ecco, a te, caro giovane, io vorrei dire oggi questo, ecco, non fuggire, magari fuggi dalle rode che in te, che vuole davvero mangiare, uccidere il bambino che in te, ma proteggi questo bambino e farlo rinascere davvero in una vocazione che realizzi pienamente la tua vita. A tutti quanti voi ancora un buon Natale e ci rivediamo mercoledì prossimo. Grazie, padre Rinaldo. Auguri a tutti.